Buon sabato inizia il weekend di tra parentesi qui su Pavia 1 TV e Lombardia Live 24 nel nostro approfondimento di oggi vorrei soffermarmi su una notizia che non ha avuto una vastissima eco nel racconto dell'attualità delle ultime ore ma che è importante anche se va detto la scarsa attenzione anche mediatica verso certi temi poi trova una corrispondenza nel disinteresse che la società stessa ha per certi mondi. Pensate al mondo delle carceri. Io spesso dico che non è un caso che soprattutto le carceri più recenti siano alla periferia delle grandi città perché questo è un mondo che fa comodo a molti non vedere. Fa comodo alla società che inconsciamente vede nel carcerato un reietto, un personaggio che se è in carcere avrà fatto qualcosa. Ci sarà un motivo e la politica che tradizionalmente in Italia ha sempre avuto un rapporto un po' conflittuale con questo mondo. Se è vero che il problema del sovraffollamento per esempio ce lo trasciniamo da decenni, continuiamo a incorrere in reprimende e sanzioni da parte degli organismi internazionali che hanno maggior attenzione per i diritti umani anche dei carcerati che in quanto individui non perdono una loro dignità e un diritto alla tutela di questa dignità ma sapete interessarsi al carcere per un politico significa anche in qualche modo esporsi alla più ovvia delle contestazioni che al bar si potrebbe dire no? Ah beh ma con tutti i problemi che hanno le persone per bene voi spendete soldi per chi è detenuto. E ieri la Corte dei Conti, cioè la magistratura contabile, quella che per intenderci vigila che siano spesi bene anche i soldi della pubblica amministrazione e dunque di noi cittadini, ha voluto nella sua relazione puntare il dito proprio contro il disinteresse della politica. Nell'ambito del giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2003, Pio Silvestri che è il procuratore generale della Corte dei Conti, ha richiamato l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di spendere risorse che peraltro pare ci siano proprio per creare delle condizioni di vita più umane nelle carceri e questo nella prospettiva di garantire davvero un reale reinserimento per chi vi è detenuto. Dice in sostanza la Corte dei Conti, guardate che se voi investite nel mitigare gli effetti diciamo così non strettamente legati al fatto che il carcere è una punizione ovviamente, c'è una pena che deve essere scontata per una restituzione poi dell'individuo colpevole alla società possibilmente redento, possibilmente migliore di quando è entrato, se voi considerate che per pagare queste cose spendete dei soldi, sappiate che quelli non sono delle spese, quelli sono degli investimenti perché alla fine del proprio percorso detentivo il detenuto sarà migliore e dunque sarà un investimento che voi avrete fatto per il benessere collettivo. Guardate che insomma in questa relazione piena naturalmente anche di aspetti burocratici è un elemento importante che richiama, non ricordiamocelo, a un principio che è sancito anche dalla nostra Costituzione. Voi lo sapete che l'articolo 27 della Costituzione, nei primi commi, mi pare il comma 3, dice proprio che il carcere non deve essere afflittivo, non deve essere punitivo, il carcere dovrebbe migliorare chi vi entra e restituirlo, io uso la parola redento, anche se la regia nel mostrarmi dei delitti e delle pene, celebre trattato di Cesare Beccaria, insomma giurista, filosofo, ai quali si attribuisce tra l'altro proprio questo approccio al tema del carcere, non come semplice punizione, scontare il fio per i propri reati, ma appunto percorso migliorativo non faceva mai riferimento al tema della redenzione, saranno per gli influssi legati all'illuminismo, sarà per una sua sensibilità personale, in tutta questa opera non c'è un riferimento al fatto che il detenuto deve sentirsi in colpa e si deve redimere, perché questo è un aspetto che forse fa più parte di alcuni principi religiosi, in modo particolare della religione cattolica, mentre l'approccio strettamente laico che Cesare Beccaria diceva era anche molto pragmatico, intanto non dimenticatevi che il modo in cui voi trattate dei detenuti ha un effetto anche su chi sta fuori, sull'opinione pubblica e anche su chi magari potrebbe avere la tentazione di fare il delinquente, se c'è la certezza di una pena, se c'è la certezza di un carcere che poi è anche in grado di cambiare l'abitudine, faccio io un'interpretazione molto lasca, molto ampia del pensiero di Cesare Beccaria, è evidente che tutto questo ha un impatto anche nella percezione, anche nel percorso di mutazione della gente. E poi Beccaria diceva anche una cosa molto importante, diceva che c'è una correlazione tra i delitti, la giustizia sociale e la qualità della vita. Banalmente, anche questa è una mia interpretazione, se uno che in caso di un reato compiuto, poi ha un effetto immediato, uno probabilmente sentirà meno forte il fatto che c'è una situazione permanente di ingiustizia, che poi può essere anche l'ingiustizia che talvolta le istituzioni stesse compiono, così come se una persona è in grado da sola di mantenersi, probabilmente avrà meno tentazione di rubare, quantomeno di rubare per necessità. L'articolo 27, dicevamo che la regia ci ripropone, è proprio quello della Costituzione. E oggi le carceri italiane non lo garantiscono tutto questo. Attenzione, noi spesso segnaliamo il problema del sovrappolamento. A fronte di una capienza di poco più di 50.000 detenuti, regolarmente l'Italia ogni tot anni arriva ad ospitarne oltre 60.000. regolarmente si accendono i fari degli organismi internazionali, l'Europa più volte, dicevamo, ci ha condannato per questo, oltre alle battaglie poi mosse, per esempio, anche dalle associazioni per i diritti umani. Allora l'Italia che cosa fa? Dice, vabbè, non è che costruisco più carceri, non è che faccio una seria riforma della giustizia, questa sì importante, che permetta di svuotare quella porzione di popolazione carceraria che è in galera in attesa di giudizio. E ci stanno in maniera degli anni, perché i tempi della giustizia sono epocali, durano anni i processi, e allora per alcuni reati il detenuto sta lì. Non dice, facciamo in modo di incentivare le forme di detenzione alternativa, pensiamo ai domiciliari, pensiamo ai braccialetti elettronici, per certi reati che non sono strettamente pericolosi per la popolazione e per quei detenuti che non sono, come dire, a rischio di reiterazione del reato e dunque non rappresentano una minaccia sociale per la collettività. No, molto spesso nessuna di queste ipotesi, dal costruire nuove carceri a cercare di svuotarle, viene presa in considerazione. Che cosa si fa? L'amnistia o l'indulto. Una roba che alla fine finisce davvero per essere la più comoda, la più veloce, ma per certi versi forse anche la più ingiusta, la più immeritata nei confronti poi del fatto che magari anche pericolosi criminali talvolta rischiano di uscire. La cronaca anche recente di questo paese ce lo insegna, salvo poi obbligare gli apparati giudiziari a correre dietro le emergenze ed evitare che vengano scarcerati anche i pericolosi boss. È accaduto anche recentemente. Allora, il problema è un problema di soldi? Certo, lo dice la Corte dei Conti, le risorse ci sono. È un problema di volontà politica? Certo, è un problema di volontà politica perché i politici stanno allontani dal mondo del carceri perché è un argomento impopolare e hanno paura. Hanno paura di avvicinarsi, perché hanno paura di sentirsi criticare dall'opinione pubblica perché chi è in carcere è brutto o cattivo e il politico non può dedicare tempo al brutto e al cattivo. Deve pensare alle persone per bene, che non arrivano a fine mese, che non hanno un lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è lì che si batte, che si combatte un'importante battaglia per la civiltà. Quello della Corte dei Conti è soltanto l'ultimo dei richiami ed è un approccio assolutamente laico. Non c'è il concetto del perdono, non c'è il concetto del buonismo. Lo dice la Corte dei Conti, che fa quadrare i conti e che dunque non si scandalizza se c'è da spendere dei soldi per il mondo delle carceri perché questo è un investimento nell'interesse della collettività. E il sovraffollamento, dicevamo, è soltanto l'unico degli aspetti. Se voi parlate con chi lavora dietro le sbarre, gli agenti di polizia penitenziaria, i funzionari, gli educatori, vi diranno che tutto all'interno del carcere non funziona. Non soltanto il problema che sono stipati come bestie in una cella di tre metri per tre. Questo è il problema più appariscente, quello che è un titolo, ma dal fatto di non avere nulla da fare tutto il giorno, dal fatto di non avere attività rieducative da fare, dal fatto spesso di non poterne anche poter incontrare i propri cari, i propri familiari. Tutte queste afflizioni interne al carcere fanno sì che la detenzione non diventi un percorso positivo di crescita, di miglioramento per un ritorno in società che sia utile alla collettività, ma sia soltanto una vendetta. Lo dice la Corte dei Conti, lo dice il buonsenso, e il carcere non può mai essere una vendetta. Il primo perché un carcerato che si sente vittima del periodo di detenzione farà di tutto tranne che migliorare e tranne che prendere atto di aver sbagliato e di volersi reinserire nella società. E soprattutto perché la differenza tra pena e vendetta è la demarcazione tra uno Stato di diritto e la barbarie. E noi in questo Paese troppe volte ci dimentichiamo di essere uno Stato di diritto, la culla del diritto, e invece tendiamo a strizzare l'occhio verso la barbarie perché tutto sommato fa comodo così anche ai consensi elettorali. Ci fermiamo, ma torniamo domani tra parentesi. a Grazie a tutti.